Ci fanno sempre sentire a casa, nonostante siamo lontanissimi, soprattutto alcune facce note, quelle che ci supportano sempre, veramente dai tempi dei gemelli, che non si sono sciolti, io ogni volta ci tengo a rimanirlo, perché se no si arrabbiano poi, se ne lo dico. Però come hai detto tu prima, ho fatto questo disco da solista e è iniziata una nuova avventura e sono contento e orgoglioso di poter essere a celebrarla su questo tipo di palco. Sì, assolutamente sì. Grido, grazie.